La progettazione è il momento in cui l'individuo, passando attraverso una lunga e sofferta serie di tentativi e di esperimenti, giunge ad un segno che diviene forma. Il mio studio negli ultimi due anni è passato dall'elaborare linee estremamente tese a linee più morbide. Nello sviluppo di queste linee morbide abbiamo importato alcune soluzioni avanzate proprio dell'automotive presenti nelle coupe sportive. Incontro un cliente proveniente dall'automotive che intende sviluppare una nuova gamma di imbarcazioni con queste linee. Da questo segno nasce già Marine. La revedna è stata una copia di San Montenegro. La revedna è stata un luogo dracone.